Quando una cliente entra ha un'esigenza espressa e non espressa e la nostra sensibilità ci porta a sviluppare anche cose che non ci vengono chieste, suggerimenti, cercando anche di passare qualche momento positivo insieme alle persone, perché non hanno solo bisogno dei capelli, ma anche di sentirsi accolti, apprezzati, valorizzati. Gli strumenti si stanno evolvendo tantissimo, quindi anche le clienti a casa imparano bene grazie ai social come pettinarsi, eccetera, e lavoriamo insieme al mondo social praticamente. Arrivano molto preparate sulle loro richieste e sta in noi a portare il servizio dal vero, perché quello che vedi nell'immagine ti crea un'esigenza, un desiderio che noi andiamo a sviluppare. Sono Giussi, titolare del Salon di Giussi di Imola. Grazie a tutti.